Ciao bimbi, come state? È un bel po' che non ci vediamo, mannaggia, mi dispiace, però presto ci vediamo di nuovo. A me mancate tantissimo, io vi penso tutti i giorni e vi voglio tanto bene. Vogliamo preparare la pasta di pane come la facevamo al nido? Che dite? Allora, per preparare la pasta di pane ci vuole la farina, il sale, l'acqua e l'olio. Cominciamo? Siete pronti? Poi voi, dopo, la potete preparare insieme alla vostra mamma o anche al vostro papà. Ok? Allora, cominciamo. Mettiamo prima la farina, poi con un ditino, uno solo, no tutta la manina, un ditino. Facciamo un buco. Ora prendiamo l'acqua e la versiamo nel buchino. Facciamo una cascata. Mettiamo un po' di sale. Voi con le vostre manine prendete un po' di sale e lo buttate qui dentro. E poi l'olio. Adesso facciamo la magia, come la facevamo al nido. Eccoli qua, tutti i cerchietti gialli. Guarda quanti ce ne sono. Adesso siamo pronti per impastare. Tiriamoci un po' sulle maniche. Cantiamo la canzoncina, come facevamo al nido? Cantate insieme a me. Forza diamoci da fare, perché adesso tocca a noi quanto zucchero versare. Tutto quello che tu vuoi. Cetrioli e pomodori. E dall'albero lassù. Pignaromi, spezie odori. Tutti in pentola qua giù. Poropo, 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 poropo. Raccogliamo le carote e di fondi. E di fondi in quantità. Quanto zucchero versare. Tutto quello che tu vuoi. Cetrioli e pomodori. E dall'albero lassù. Pignaromi, spezie odori. Tutti in pentola qua giù. Poropo, 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 ecco qua. Adesso la mettiamo fuori e la lavoriamo un altro po'. Ecco qua. Voi vi potete divertire con mamma e con papà. Mettiamo un altro po' di farina. Ecco fatto. La pasta di pane è pronta. Adesso io ne do un pezzetto a voi. Ecco qua. E un pezzetto a me. E adesso siamo pronti per fare tante cose belle. Potete vedere se a casa avete un matterello oppure qualche formina. Ok? Vi ricordate? Oppure possiamo fare un bel serpente. Lungo, lungo. Qui sta la danza del serpente che viene giù da un monte per ritrovare la sua coda che aveva perso lì. Ma dimmi un po' se proprio tu quel pezzettino del mio codin. Forza, bimbi! Adesso fatela anche voi a casa, ok? Fatemi sapere se l'avete fatta e divertitevi. Un bacio grande, grande, grande. Vi voglio tanto bene. Fate i bravi. Ci vediamo presto!